Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Antonio Teocoli, detto Teo, è un comico, imitatore, cabarettista, attore, cantante, conduttore televisivo e regista teatrale italiano di successo. Ha rilasciato un'intervista davvero toccante, in cui parla proprio di Silvio Berlusconi. Ospite di un giorno da pecora, l'attore e comico Teo Teocoli, ha dichiarato. Io e Boldi eravamo famosissimi, facevamo una trasmissione che andava solo al nord e Berlusconi ci invitò a casa sua per convincerci a passare a Mediaset. Ci offrì 800 milioni, io gli dissi che volevo 1 miliardo e 200 milioni e lui rispose, va bene. Ma poi non se ne fece niente, noi facevamo una cosa enorme tipo Saturday Night Live e non c'era la possibilità di realizzarla all'epoca. Proprio riguardo al Berlusconi umano, quello che non tutti conoscono, Teocoli ha speso parole altrettanto belle, descrivendolo così. È sempre stato generoso con tutti, sono cresciuto alle case popolari di Niguarda, mai avrei pensato di guadagnare tanti soldi, gliene sono grato. Anche se qualche volta non sono stato tanto educato, ho lasciato qualche programma all'improvviso, ha chiusato. Parole dalle tinte davvero forti, specie ora che Berlusconi ha lasciato la dimensione terrena. Parole dalle tinte davvero forti, grazie a tutti.